E adesso un servizio. Siamo con Gianmarco Collenò, consigliere provinciale del PDL, dunque si è svolto questo convegno organizzato dalla sua lista. È stato presentato ufficialmente al pubblico Angelo Tabaro come candidato del PDL, quindi è servito un po' a rompere il ghiaccio e a scavalcare questo muro di rifidenza che c'era prima. Io non parlerei di un muro di rifidenza, però sicuramente abbiamo segnato una svolta in questa fase di avvicinamento alla campagna elettorale del 2010. È stato un incontro, un convegno che ha ottenuto un ampio successo, c'è stato molto pubblico, molta partecipazione e soprattutto qualità negli interventi. Ecco, al di là della qualità degli interventi, penso che il numero di spettatori a questo convegno vi abbia in qualche modo inorgoglito e forse proprio il pubblico, gli elettori vostri del PDL potrebbero rappresentare la spinta per una svolta. Sicuramente sì, perché quello che si è percepito è la voglia di partecipare della gente di Portogruaro, degli elettori, del popolo, della libertà. Attorno al progetto di Angelo Tabaro Sindaco si sta costruendo in questo momento un programma, una squadra soprattutto, che intende lanciare la sfida ad Antonio Bertoncello di qui alla primavera del 2010, per vincere il Comune di Portogruaro e per dare il cambiamento a Portogruaro. Quali saranno gli errori da evitare rispetto all'ultima tornata amministrativa? Sicuramente cercheremo di non perdere per una manciata di voti, di non perdere, in realtà è stato un pareggio, di non pareggiare per una manciata di voti, compromettere il Comune. Ci metteremo probabilmente più determinazione e quello che noi abbiamo chiesto come popolo della libertà ad Angelo Tabaro è la capacità di volare alto, di saper guardare anche verso orizzonti più ampi di quelli della stessa città.